E' giusto farvi vedere anche la Taranto by night, non si tratta della fortunata trasmissione di molti anni fa, una trasmissione in cui si girava nei locali notturni per mostrare la Movida, magari fosse così. Qui stiamo parlando del quartiere Paolo VI di Taranto, del parco del Mirto che purtroppo è la periferia delle periferie. Guardate il buio assoluto che regna, sembra quasi proprio la selva oscura di Dante Alighieri. E' davvero impossibile, sarebbe molto rischioso incamminarsi di notte in questa zona. Purtroppo è diventata preda di criminalità, di traffici strani, anzi strani, molto chiari, traffici delinquenziali, di droga e quant'altro. Vi abbiamo fatto vedere in un precedente servizio come è stata devastata, ovviamente facendo le riprese di giorno. Ma la rabbia che io ho è nel vedere che da un lato l'amministrazione Melucci parla di aver seminato la rinascita e invece ha seminato il buio pesto e dall'altro Musillo che ha amministrato con Melucci ora si lamenta del buio, della devastazione, dell'abbandono che c'è qui al Parco del Mirto. Come se lui non ne sapesse nulla, come se Musillo non avesse mai appunto amministrato a fianco all'ex primo cittadino appunto Melucci. Vedete qui chiaramente il buio si è creato in quanto vi sono state delle devastazioni, sono stati derubati, sono stati saccheggiati i vari impianti elettrici e vedete cosa è rimasto il nulla, il buio assoluto. Il problema è un altro. Un'amministrazione sana dal punto di vista proprio operativo cosa fa? Mette un servizio di guardiania fisso, costante, vigilanza continua e appunto H24. Se invece tu abbandoni la zona pur sapendo che è a rischio, che è meta appunto di delinquenti, tu vai a creare quelle condizioni di sei corresponsabile di queste situazioni perché tu in buona sostanza di queste situazioni di abbandono, di degrado perché tu non hai fatto nulla per impedirle, per prevenirle. Era così difficile per l'amministrazione Melucci Musillo, ribadiamo entrambi, Melucci Musillo, compagni di amministrazione, era così difficile mettere un servizio di guardiania? Guardate cosa c'è, è mai possibile che un polmone di verde esteso, enorme, bellissimo, debba diventare così, debba ridursi a una selva oscura di Dante come detto poco fa? Signori, se voi volete il buio, il buio che Melucci e Musillo vi hanno donato, continuate a votarli. Se invece volete dare fiducia al sottoscritto come sindaco che da 21 anni non fa altro che denunciare, l'ho fatto da giornalista, mi auguro di farlo da sindaco, per 21 anni ho denunciato queste incapacità, questi orrori amministrativi e volete effettivamente cambiare, svoltare, io penso di meritare la fiducia. Non fosse altro perché per Taranto ho sempre lottato, non è solo uno slogan, ma è la mia storia, è la mia vita e mentre io già da anni e anni, da prima ancora che si insediasse Melucci e durante tutto il periodo dell'amministrazione Melucci sottolineavo i rischi che appunto c'erano qui al Parco del Mirto, Musillo e Melucci evidentemente dormivano e questi sono i risultati. Volete il buio? Bene, continuate con Musillo e Melucci.